Eppure dopo la conosce una persona ha riuscito da Comanda fuori, che il Comando è Borco, un pezzo 90, non pezzi 40, pezzi 90, ma la nota Comanda, 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 nel senso che a me chi mi parli non è senso come comandare, ti dico solo il nome, Angelo, il cognome non te lo dicono, non c'è niente. Cioè tu fai, tu fai cosa lì, ma come non ti avrai questa mamma? E mamma cade, amore, è desanguato. Bicca, dove. 120, puoi. Ho capito che adicca un moso come orcivamo a dire la mamma. Dime ré sagge, non va fare cosa, non ha soglutato, non va l'uomo, va l'uomo stiamo, non è scappato, lo rego pidevo il boss, lo trovo il cotzargo, le gara, le gara, le gara, le gara. Ora abbiamo un po', ora abbiamo un po', ora abbiamo un po', ora abbiamo un po'. Nooo, io ho una terra con la cagliana, è una terra con un piede, una terra con una lama, che era un po' niente, ma non c'è niente, c'è niente dove andiamo. prima che non c'era la pugnata andavo perso. Io mi paravo, chimano, c'era proprio qui per scappare. C'era Macello. No, sì. Per Giovanni. Non è che uno mi lavora, mi risale tutto sviluppo. Perciò io faccio cinque, mi devi notare. Papà lo sveglia loro a tutto io. E mi metto con il dà, lo faccio lì. Io faccio un gommellero a mese, papà. Ciao beclawio, qua c'è guarda di amore. Sì, qua c'era i miei amori. In tipo questa cosa dice che ci vacca nella via. Tu mi devi fare bene, un certificato togli a testa che l'hai svelato non ti fa più. Però io le direi su po' quanto non lo capisci. Poi io gli ho fatto un tratto, io gli ho fatto un tratto, io gli ho scritto Giovanni Falcone e Paolo Bussarino, io non siete sempre dei problemi.